La finale della Coppa Italia di Serie A femminile Buon pomeriggio da parte di Marco Calabresi E ben tornati al palafiera di Pesaro Tienese e Cagliari Si giocano la prima edizione della Coppa Italia di Serie A femminile Si sono già affrontate due volte Sono nello stesso girone del campionato di Serie A Vale a dire il girone A È primo il Cagliari È seconda la Tienese Ma quest'oggi c'è in palio un trofeo Prima del match Inno di Mameli Grazie a tutti 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 Informazioni ufficiali che andiamo a leggere Con l'applauso del pubblico Partiamo dalla Tienese Emozionante di una giornata che per la Tienese o per il Cagliari femminile Sarà una giornata storica Quella di alzare un trofeo al cielo Quattro anni fa Nella Final 8 di Serie A femminile Non c'era il Cagliari Ma il Cagliari era nella Final 8 di Serie A2 Perse la finale contro la Cagliari 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 Non c'era Diego Podda Bensì Cesar Nugnez Podda che avrebbe raggiunto la finale L'anno successivo a Martina Franca Ma persa anche quella contro il Napoli Futsal Santa Maria Quindi anche per il tecnico sardo Che ha tantissima esperienza nel Futsal maschile Può essere una giornata da ricordare Ma lo può essere per tutta la Tienese Che anche per questa finale Giocherà in maglia verde Verde chiaro per quello che concerne La maglia e i calzettoni Verde scuro per i calzoncini Mentre i portieri sono in maglia rosa Risponderà il Cagliari con una divisa bianca Con inserti rosso e blu I colori sociali del club sardo Sciogliamo subito il dubbio Che riguarda Taina La stella della squadra di Diego Podda Che aveva abbandonato il campo in lacrime Per un infortunio ieri durante la semifinale Ebbene non solo Taina ha recuperato Ma Taina è nello starting five Dunque nel quintetto iniziale di Diego Podda C'è spazio per la numero 20 Giocatrice brasiliana Completano il quintetto cagliaritano Martina Mulas in porta con il numero 24 Carolina Vars con il 4 Michela Marungio con il 9 E Claudia Cucco il capitano con il numero 21 Completano il roster a disposizione di Podda Caterina Olla con il numero 7 Maria Francesca Gandini con il 10 Roberta Spiga con il 16 Federica Cocco con il 22 Tiziana Zedda scusate con il 26 E Paola Carta il secondo portiere con il numero 12 Risponde la Tienese squadra di casa Almeno per ciò che concerne il calendario di questa Final Eight In porta Denia Cocco con il 12 Completano il quintetto Elena Ferro con il 5 Chiara Battistoli il capitano con il 6 Catarina Pigneiro con il numero 10 Sandra Burkan con il numero 11 Completano il roster a disposizione di Kim Serandrei con il 2 Maria Carollo con il 3 Elisa Begnoni con il 4 Lucia Dall'Olmo con il 7 Ilaria Savegnago con il numero 8 Lisa Molon con il 9 Deborah Mota Keirosh e il secondo portiere Mohamed Eldin Zaki Sherin È tutto pronto per l'inizio di questo match Sarà la Tienese ad attaccare da sinistra verso destra Rispetto alla nostra postazione Sarà proprio la formazione vicentina a dare il calcio d'inizio Primo possesso in favore della squadra di Kim Serandrei Che per arrivare a questa finale ha battuto Royal Team La Mezzia e Woman Napoli entrambe ai tiri di rigore Mentre il Cagliari non è mai dovuto ricorrere all'epilogo dal dischetto Perché ha battuto sia la Bella Torferentum che il Martina Monopoli Nei 40 minuti regolamentari Una novità rispetto alle prime due giornate Vale a dire quella che per assegnare il trofeo in caso di parità Al termine dei 40 minuti regolamentari Non saranno direttamente i tiri di rigore Ma per la finale sono previsti due tempi supplementari Della durata di 5 minuti effettivi ciascuno Si parte subito il primo fallo commesso in attacco dalla Tienese E primo pallone ora manovrato dal Cagliari Con Vargiù L'apertura a destra a cercare Marongiu Vediamo quali saranno le condizioni di Taina Che ha recuperato dalle lacrime di ieri al quintetto base di oggi Poi chiederemo anche a Diego Podda La pozione magica utilizzata per rimettere in campo Una giocatrice che senza dubbio sposta gli equilibri di questo match Eccola qui, proprio Taina che prova ad andarsene sul fondo Pallone troppo lungo Della numero 20 Che gioca con due scarpe di colore diverso Una verde e una rosa Vediamo se anche oggi riuscirà a imprimere il suo marchio indelebile Sulla Coppa Italia del Fuzz al Cagliari Capolista, ricordiamolo, del girone A del campionato di Serie A femminile Con 43 punti Più 3 Proprio sulla Tienese A quota 40 Tienese che insegue con tre sole lunghezze di distacco Ma ha perso entrambi gli scontri diretti in questa regular season 5 a 4 in casa il 25 ottobre alla quarta giornata E 6 a 3 in Sardegna Il 7 febbraio nella quindicesima giornata di questo campionato di Serie A femminile Che mette in palio sicuramente tre posti per l'elite Ma anche posizioni di qualificazione ai playoff Sia per la promozione in elite Ma anche per partecipare alla lotta e al gran ballo dello scudetto Insieme alle migliori otto del piano di sopra Diciamo così Cucu perde il pallone Prova ad andarsene Battistoli Che sfrutta la sua velocità Ancora Battistoli Poi si allunga la sfera C'erano Berkan ma anche Catarina Pigneiro Pronte sul secondo palo a correggere in rete Invece il capitano ha dovuto per forza di cose fare tutto da sola Vista la doppia pressione portata dalla difesa cagliaritana E quindi sfuma una potenziale occasione in favore della tienese 1 minuto e 19 secondi giocati nel corso di questo primo tempo Pigneiro prova ad andarsene su Vargio Ancora Pigneiro sfrutta il suo sinistro Poi sarà rimessa in gioco in favore del Cagliari Non abbiamo ricordato i direttori di gara Che sono il primo Riccardo Davide della sezione di Bologna Il secondo arbitro è Dennis Codra di Trento Il cronomen Jurget Rapi della sezione di Prato È il secondo match di un programma che prevede questa sera alle ore 20.30 La seconda semifinale della Coppa Italia di Serie A2 Tra la Camedosson e l'Ital Service Pesaro Fano Ve la racconterà Francesco Puma Mentre Peppe Di Giovanni vi ha già narrato le gesta dell'imola di Vanni Pedrini Che con il 5-1 all'Augusta ha già staccato il biglietto per l'epilogo di domani in programma alle ore 18 Sempre qui al Palafiera e sempre in diretta streaming sul sito della divisione Calcio A5 Pigneiro potrebbe anche aprire invece sceglie la conclusione di destro Pallone sul palo in preca in portoghese Catarina Pigneiro Aveva trovato il varco giusto con il piede a lei meno congeniale Mancino naturale la giocatrice portoghese Ma la palla che ha scheggiato il palo con Mulas fuori causa Ancora Tienese che sta giocando meglio in questa prima fase Berkan Ancora Pigneiro C'è in campo Elena Ferro come ultima giocatrice Ultimo baluardo difensivo Ancora mai impegnata perché il Cagliari deve ancora affacciarsi dalle parti di Deniacogo Eccola qui Ferro Si va a sinistra da Battistoli L'uno contro uno con Vargi Pigneiro in verticale Pallone intercettato Occhio a questo break del Cagliari Portato avanti in maniera troppo lenta però da Marongiu Ecco qui Taina Marongiu La sovrapposizione di Vargi L'imbucata ancora verso Cucu E poi nuovo contropiede del Tienese C'è forse il fallo alle spalle commesso da Claudia Cucu Il capitano viene sanzionata con il primo fallo Siamo uno a uno nel conto delle scorrettezze Due minuti e trentasette secondi giocati di questo primo tempo Tienese e Cagliari ancora ferme sullo zero a zero Palla al centro C'è l'anticipo e c'è il corner concesso dalla difesa cagliaritana Salutiamo i 320 spettatori di questa finale in diretta streaming Grande successo per la diretta streaming curata sul sito della divisione Calcio a 5 Grazie anche al fondamentale ausilio della MMAG Comunicazione Che sta garantendo un servizio di quantità e qualità soprattutto Calcio d'angolo già battuto Prolunga la traiettoria Michela Marongio Avrete già visto in queste ultime ore tutti gli highlights delle gare fin qui Giocate in questa Kermess pesarese Non mancheranno gli highlights tra qualche ora Anche del match che ha visto Limola prevalere sull'Augusta In serata troverete i riflessi filmati anche di queste due gare Quella che è iniziata da tre minuti e quella delle 20 e 30 Tra Came e Pesarofano Keyrosh che intanto è entrata in campo Mulas riesce in qualche modo a trattenere il pallone A far subito ripartire il Cagliari Taina che deve ancora accendere il turbo Vargiù La puntata ribattuta ancora da Sandra Burkan Si riprende con la rimessa in zona d'attacco in favore del Cagliari Saranno d'accordo qui anche i miei colleghi in tribuna stampa Taina sembra aver pienamente recuperato dall'infortunio Che ne aveva messo a repentaglio la partecipazione a questa finale Tutte le giocatrici dopo la sirena che ha sancito il 2-1 sul Martina Monopoli Hanno abbracciato la loro stella E' incoraggiata Eccola qui Taina palla al centro E c'è il vantaggio del Cagliari Lo segna Claudia Cuccu Ha subito lasciato il segno Taina Non con un gol ma con un assist illuminante Per Claudia Cuccu 3 minuti 32 secondi di questa finale Si sblocca il risultato Tienese 0 Cagliari 1 Applaude in panchina Diego Podda Che dopo i primi due minuti in cui la Tienese sembrava aver approcciato meglio a questo match Festeggia il vantaggio con Claudia Cuccu Vediamo la reazione e c'è un'occasione colossale Per la Tienese con il pallone messo al centro da Elena Ferro Berkan che aveva la possibilità soltanto di spingerlo in rete Che ha fallito l'appuntamento con l'1-1 Un regalo di Natale fuori stagione Quello della giocatrice croata al Cagliari Che pochi secondi dopo aver trovato il vantaggio Ha rischiato in maniera enorme di subire il pareggio Attenzione però perché c'è Cocco dall'altra parte Il pallone viene contrastato da Elena Ferro C'è il meglio del campionato di Serie A femminile Quest'oggi al Palafiera di Pesaro Sono serviti solo 4 minuti per capirlo Taina Destro a lato Si è accesa Taina Pignero Pallone per Dall'Olmo che è entrata in campo Poi Berkan, la puntata tentata da Keirosh La palla viene raggiunta o forse no Con un attimo di ritardo è partita la numero 9 Giocatrice portoghese connazionale di Catarina Pignero E quindi è subito cambiato il risultato Con il gol del vantaggio segnato dalla formazione di Diego Podda Che è qui sotto la nostra postazione Già si sta sgolando per dare tutte le direttive del caso Alla squadra in maglia bianca Ma con inserti rosso-blu Marongiu nel cerchio di centrocampo L'apertura a sinistra verso Gandini Autrice del gol del 2-0 Di testa, un gol sul suono della sirena Che ha aperto in due la gara Un Martina Monopoli che aveva difeso benissimo Nel corso del primo tempo Poi il gol segnato proprio all'ultimo secondo del primo tempo Della semifinale ha finito per incidere in maniera determinante sul risultato finale di quella Che è stata la seconda semifinale di ieri In campo anche Elisa Begnoni Una delle giocatrici con il maggior carisma della tienese Nonché autrice del rigore decisivo Che ha portato la formazione di Kim Serandrei A giocarsi la semifinale di ieri Poi vinta anch'essa dal dischetto contro la Uoma Napoli Marongiu 2 contro 2 C'è Gandini dall'altra parte Begnoni interviene molto bene in ripiegamento Poi prova a fare a sportellate con Marongiu Sfrutta il fisico per tenere il possesso del pallone Poi Pignero fa rimpallare la sfera Sul piede di Federica Cocco Sarà rimessa in favore della tienese 5 minuti 24 secondi nel primo tempo 1-0 in favore del Cagliari Taina Prova a starle dietro Keirosh Ancora Taina mantiene a fatica il possesso del pallone Poi non c'è il fallo di Begnoni Che va a chiedere spiegazioni alla numero 20 del Cagliari Poi viene redarguita dal direttore di gara Atteggiamento sempre molto aggressivo Quello della numero 3 in maglia verde Cocco Non ha fretta di accelerare il Cagliari Ancora Cocco Pallone in verticale Quello tentato da Carolina Vargi All'indirizzo del numero 22 Pallone che si perde in fallo laterale 5 minuti e 41 sono trascorsi nel corso di questa finale 1-0 Per ora è decisivo per il Cagliari La rete segnata al terzo minuto e 32 del primo tempo Da Claudia Cuccu Cagliari che adesso prova ancora a tornare in possesso del pallone Taina in verticale Fa scorrere in maniera molto saggia dall'olmo la sfera Palla che termina comodamente nelle mani di Denia Kogo Portiere ricordiamolo classe 1975 40 anni E non sentirli per l'estremo difensore della Tienese Occhio ancora al break però C'è Begnoni che potrebbe anche calciare Poi perde troppo L'attimo buono E quindi Ringrazia la squadra cagliaritana Adesso c'è Carollo Autrice del rigore decisivo Ieri nella semifinale Contro una woman Napoli Che sembrava avere la strada spianata Forte anche del punteggio pieno in campionato Invece Dopo il pareggio nei tempi regolamentari La squadra di Enzo Tramontana Ha perso la prima partita della sua stagione Ma una partita molto importante Con la woman Napoli Che ha raggiunto la finale Destro Ancora di Claudia Cuccu Vicinissima alla doppietta Pallone fuori Con Denia Kogo Pietrificata Al settimo minuto Che è scoccato in questo istante Vicinissima al raddoppio Il Cagliari Invece Si resta sull'1-0 Ringrazia la tienese Che ha rischiato veramente grosso In questa occasione Pallone troppo lungo per Carollo Taina Pallone verso Marongiu Rimessa in favore del Cagliari Se ne incarica ancora Taina Pallone per Cocco Stavolta la giocatrice brasiliana Non riesce a raggiungere la sfera Che torna nel possesso della tienese Con Carollo Ancora Taina Che sporca la traiettoria Della numero 2 della tienese E quindi sarà Time out Chiamato da Kim Serandrei Dovrà sicuramente riordinare le idee Alla sua squadra Dopo il gol del vantaggio Realizzato da Cucu Ci fermiamo pochissimo anche noi Di a Cucu Di a Cucu Di a Cucu Si torna a giocare Sono passati sette minuti e mezzo Di questa finale Il Cagliari l'ha già sbloccata Grazie al gol di Cucu Adesso Cocco Quasi omonima Che mette il pallone al centro Ed eccolo qui Il raddoppio Del Cagliari Ancora con Claudia Cucu Avvio bruciante Della formazione di Diego Po Da sette minuti e quaranta secondi Arriva subito il Secondo gol Ancora il Sigillo del capitano Assist di Cocco Gol di Cucu Sembra uno scioglilingua Invece è tutto vero Cagliari due Tienese zero E adesso Per la Tienese è durissima Nonostante siano passati Soltanto sette minuti e quarantotto secondi Trovarsi in svantaggio di due reti Non era certo il modo che Kim Serandrei Sognava per iniziare questa finale Anzi tutt'altro L'invio di Mulas Ancora verso Claudia Cucu Gol del 2-0 Realizzato dalla stessa giocatrice Che ha trovato il vantaggio Claudia Cucu Classe 1981 Compila 35 anni il 29 di marzo E questa potrebbe essere un regalo di compleanno anticipato Una doppietta nei primi sette minuti Attenzione perché il Cagliari non si ferma Ovviamente non può fermarsi anche perché la partita è lunghissima Ma l'approccio Dopo un paio di minuti in cui la Tienese sembrava avere Preso il sopravvento Un 1-2 micidiale Quello firmato dal capitano del Cagliari E adesso la Tienese è chiamata a una velocissima reazione Mentre il Cagliari proverà a sfruttare l'onda dell'entusiasmo Per provare a chiudere la gara Attenzione perché c'è ancora la squadra sarda in possesso Esce Cogo e agguanta il pallone Pigneiro Verso Dall'Olmo Apertura a destra verso Begnoni Che sbaglia il controllo Attenzione ancora al Cagliari con Cocco La rimessa in favore del Cagliari Chiede massima concentrazione Diego Podda sa benissimo La posta in palio è massima per la squadra sarda Dicevamo di un Diego Podda che Tre stagioni fa Giocò La finale Della Coppa Italia di Serie A2 al Palavoitira di Martina Franca Contro la Napoli Futsal Santa Maria Questa cosa, questa finale Fu persa Dai Sardi che persero anche l'anno prima con Nunez in panchina Su questo parquet contro la Cogianco Genzano Stavolta il Cagliari al femminile Vuole alzare un trofeo Attenzione a Burkhan che prova ad andarsene Destro sul primo palo E la risposta da parte di Mulas Che devia in calcio d'angolo Siamo per scollinare 9 minuti e 0-3 Giocati nel corso di questo primo tempo Il punteggio vede in vantaggio Il Cagliari per 2-0 Grazie alla doppietta di Claudia Cuccu Cagliari che prova ora a ripartire C'è il fallo Fischiato alla Tienese E' il secondo per le Vicentine Chiedevano forse l'applicazione della norma del vantaggio Le ragazze di Diego Podda Vantaggio in questo caso non accordato Fischio dei direttori di gara Che è arrivato Forse con un paio di secondi di anticipo Senza vedere lo sviluppo dell'azione 9 minuti e 0-8 Giocati 2-0 per il Cagliari Taina in verticale si va da Federica Cocco Ferro Apertura verso Pigneiro Altissima la pressione di Cocco Pigneiro Sporca il pallone Cocco Attenzione ancora a Taina Qui c'è il fallo da dietro Commesso da Battistoli Arriva anche il primo cartellino giallo Di questo match E' per il capitano della Tienese Chiara Battistoli E dunque sarà Calcio di punizione per il Cagliari Terzo fallo commesso dalla Tienese Bargiu Già battuto verso Taina Pigneiro Mette in fallo laterale 9-35 Giocati Federica Cocco Sul punto di battuta Bargiu Ancora Taina In verticale verso Cocco Ferro prova a sporcare il pallone Ma ancora il Cagliari Che sembra totalmente in controllo Di questa finale Nonostante l'errore Nell'appoggio di Mulas Verso Taina Pigneiro Dall'altra parte Si va da Battistoli Ma Marongiu Anzi scusate Era il numero 4 Carolina Bargiu Riesce a sparecchiare L'area di rigore Concedendo comunque Rimessa alla Tienese Con Pigneiro Pallone messo al centro Ancora Taina Lo mette in calcio d'angolo Vediamo se la Tienese Proverà Ad alzare il ritmo Per cercare di Riagguantare una finale Che sta sfuggendo via Ferro potrebbe anche Calciare col destro Due deviazioni E ancora calcio d'angolo Chiede la grinta Di tutte le compagne Elena Ferro Credo che Diego Podda Stia per chiamare Il suo time out Ha già chiesto Ai suoi dirigenti Di portare il cartellino Sul tavolo del cronometrista Pigneiro Pallone al centro La deviazione Di Gandini E c'è il gol Del 2 a 1 Decimo e 0-6 Angolo di Pigneiro Deviazione di Gandini Che dunque C'è il gol Del 2 a 1 Time out Di Diego Podda L'aveva chiamato Prima del gol Del 2 a 1 Adesso dovrà Spiegare forse Qualcosa in più Alle sue ragazze Il tecnico Sardo Time out Anche per noi Spiegare forse Il gol Si è ripreso a giocare Con il punteggio Che è cambiato ancora 2 a 1 Sì la deviazione L'abbiamo anche rivisto Al rallenti E la deviazione Di Francesca Gandini Che dopo essere stata Protagonista Del gol Del 2 a 0 Nella semifinale Contro il Martina Monopoli Questa volta Iscrive nel modo sbagliato Il suo nome Nel tabellino Delle marcatrici Perché è sua La deviazione Che mette fuori Causa Martina Mulas 2 a 1 E tutto da rifare Per il Cagliari Dopo la doppietta Di Cucu È arrivato L'autorete Di Gandini Su calcio d'angolo Di Pigneiro E siamo 2 a 1 Proprio Pigneiro Prova a cambiare gioco Taina prolunga la palla Quel tanto che basta Per metterla In fallo laterale Pigneiro Potrebbe anche calciare Traversa clamorosa Di Catarina Pigneiro E 2 a 2 Sfiorato Dalla Tienese Che ha reagito E come Alla doppia sberla Portata da Cucu Ferro Calcia forte Ma perde il rimpallo Attenzione al break Del Cagliari Troppo lungo Il pallone di Taina In direzione di Gandini Mancano 9 minuti Ma si sono stati già Sfruttati i time out Da entrambi i tecnici Adesso va fuori Cocco Torna in campo Michela Marongiu I minuti sono 10.56 Nel corso di questo Primo tempo Alla doppietta di Cucu Ha risposto L'autogol Di Gandini Propiziato Da Pigneiro 8 minuti E 50 Da giocare Nel corso Di questo Primo tempo Ancora Tienese Che adesso ci crede Ferro Taina Rientra sul destro Poi Nuovamente Serie di numeri Della brasiliana Che resta in piedi Nonostante la carica Delle spalle Tre falli Sanzionati Alla Tienese Uno solo Al Cagliari Che è in vantaggio Però nel conto Dei gol Quello che conta Per alzare Questa Coppa Italia Vargiù Si va da Marongiu Che poi fa Scorrere il pallone C'è la deviazione Di Kogo In calcio d'angolo Corner in favore Della squadra Sarda Ancora Marongiu È pronta A eseguire Questo tiro Dall'angolo Pallone corto Per Cucu Si va da Taina Che sbaglia però Il movimento Nel ricevere Il passaggio Della numero 21 E chissà se Taina e Cucu Si sono scambiate Le scarpe Perché anche il capitano Della formazione Di Podda Gioca con una scarpa Rosa e una verde Chissà se sono Spagliate Delle due compagne Lo chiederemo Proprio a Diego Podda Visto che La scaramanzia Fa parte Della formazione Cagliaritana Visto che abbiamo Intravisto anche oggi Un Un peluche Sulla panchina Del Cagliari Battistoli All'indietro Per Pignero Che prova Ad andarsene Su Taina Ancora al destro Palla al centro E il pareggio Di Chiara Battistoli Grande partita Grande reazione Della Tienese E due a due Il pareggio Di Battistoli Ancora una volta Protagonista Pignero Che ha messo La sfera al centro Solissima Sul secondo palo Battistoli E per il Cagliari È il momento Di ricominciare Da zero Dopo la doppietta Di Cucu Due a due Taina Altro scontro Durissimo Con Pignero Resta a terra La numero 20 Del Cagliari Del Cagliari Cagliari Che forse Si è un po' Rilassato Dopo il doppio Vantaggio Realizzato Da Cucu È una Tienese Che invece Ha ripreso vigore Grazie anche All'episodio Fortuito Della deviazione Di Gandini Sull'angolo Di Pignero Pignero Poi ha vestito Ancora una volta I panni Della protagonista Con l'assist Vincente Per Battistoli Che ha realizzato Il gol Del pareggio Adesso Taina Prova il destro Begnoni Lo contrasta Nuovamente Taina Che alleggerisce Verso Mulas Poi Cucu Cercava la deviazione Di Pignero La palla Che invece Ha preso Una strana Traiettoria Non è uscita Begnoni C'è solissima Keiroche Nei pressi Della porta Di Mulas La cerca Con un attimo di ritardo La numero 3 Della Tienese 7 minuti e 26 Da giocare In questo Appassionante Primo tempo 2 a 2 Al palafiera Di Pesaro Dall'olmo Verso Begnoni All'indietro Ancora per Lucia Dall'olmo Che scodella La sfera In direzione Di Begnoni Che però Non può raggiungerla C'era Taina In anticipo Non deve neanche Proteggere la sfera Che finisce fuori Da sola Occhio all'errore Da parte del numero 4 Vargi Rischiava di Giustiziarla Keiroche E palla che finisce Di pochissimo fuori Tienese vicino al gol Del 3 a 2 E Vargi Vicino a una frittata Che avrebbe avuto Del clamoroso Eccola qui Ancora Vargi Che poi perde L'equilibrio Tienese Che torna in possesso Del pallone La palla scorre lentamente Tra le braccia Di Kogo Che ha già fatto ripartire Dall'olmo All'indietro Per Pigneiro Che mette la sfera fuori Perché forse Ha messo male Un piede Vargi Che torna in panchina Non vorrei che si fosse Fatta male Alla caviglia In occasione del cambio Di direzione Di una palla persa Che stava per regalare Il gol del 3 a 2 A Keiroche Sportivamente restituisce Cogo Pallone Nuovamente Nei piedi di Pigneiro Il tocco è lungo In favore di Lucia Dall'olmo Mancano 6 minuti E 38 All'intervallo Siamo 2 a 2 Cucu Cucu Per il Cagliari Autogol di Gandini E Battistoli Per la Tienese Eccola qui Claudia Cucu La sponda per Taina L'1-2 Che non arriva A destinazione Era scordinato Il tocco Di Taina Begnoni In possesso Palla E' costretta Ad allontanare La sfera In questo caso Dall'olmo Taina Prova ad andarsene Begnoni La ferma regolarmente Ancora Cagliari Marongio All'indietro Per Cocco In verticale A cercare Cucu Non c'è fallo Anzi si Arriva il fischio Del direttore di gara Che sanziona L'intervento Della numero 21 E' il Quarto fallo Se non abbiamo Visto male Begnoni Ancora il pallone Per Keirosh Poi Pignero In verticale Per Keirosh Pallone fuori Si sgola Il portiere De Kogo Per Per posizionare bene La fase difensiva Cucu Cucu Ha il problema Di girarsi C'è Keirosh C'è Keirosh Il rimpallo Che questa volta Viene vinto Dalla giocatrice Del Cagliari Che con la sua doppietta Aveva illuso La squadra di Podda Che fosse tutto facile Ma tutto facile Non era Perché la Tienese Ha un cuore grande Così E ha prima accorciato Le distanze Grazie all'autorete Di Gandini Poi ha trovato il 2 a 2 Con Battistoli 5 minuti e 47 secondi Da giocare nel primo tempo Pignero Riesce a tenere in campo Il pallone Ancora Pignero Prova a mettersi In proprio Un destro Che stava per andare A morire Sotto l'incrocio E invece la palla Finisce fuori Un brivido Lungo la schiena Di Diego Podda Cocco Per Taina Poi Marongiu Ancora Cocco Che sbaglia Il disimpegno Perde il rimpallo E altro possesso Per la Tienese Si è un po' rilassato Il Cagliari Dopo aver Trovato il gol Del 2 a 0 Non solo la Tienese Ha pareggiato Ma adesso Ha preso anche Diversi metri Keirosh Esplode il destro Stavolta lo controlla Martina Mulas La palla che finisce fuori Nessun problema Per il portiere Sardo E allora riparte Taina 5 minuti e 10 secondi Da giocare In questo primo tempo Sbaglia Marongiu Che poi rimedia In qualche modo Servendo Taina Arriva la corrente Cocco Che forse poteva Controllare Con il sinistro Si è sentita Più sicura Nel controllo Con il destro Ma la palla Era già passata Keirosh Rilancio Sul secondo palo Verso Catarina Pignero Palla comodamente Tra le braccia Di Mulas Che si riparte Da Gandini Dall'olmo Si va da Keirosh In verticale Non arriva A destinazione Begnoni Che prima faceva L'ultima difensiva Ora sta facendo Il pivot Bargiu Anzi ora Marongiu Ancora Begnoni Che difende A tutto campo Poi l'apertura Verso Battistoli Adesso c'è Keirosh C'è ancora Begnoni A rimorchio Il sinistro Soltanto provato Dalla numero tre E il Cagliari Respira Poi sbaglia Il controllo Taina Si è fidata Troppo Della sua Suola La giocatrice Del Cagliari Che poi Chiede scusa La rimessa Di Berkan Per Pignero La scivolata Di Taina Chiama lo schema La giocatrice Portoghese Della Tienese Scodellato Il pallone Verso Keirosh Lo fa scorrere Marongiu Che poi Raggiunge La panchina Dovrebbe essere Lei a lasciare Il campo A Alessandra Marras Va fuori Marongiu Ultimi Quattro minuti E dieci Di questo primo tempo Prova ad andarsene Sulla corsia Di destra Cocco Poi rientra L'assista Al centro Era in direzione Di Marras È intervenuta Molto bene La difesa Della Tienese Gara ricca Di gol Ed equilibratissima Come sono stati Due precedenti In campionato In due gare Ben 18 reti Quest'oggi siamo Già a 4 in 16 minuti Destro di Taina Ribattuto Ancora Taina Va ad imbucare Per Gandini Attenzione al break Della Tienese Sbaglia Il cucchiaio Pignero Verso la Con nazionale Key Roche Si scusa E se la prende Con il suo piede Destro La giocatrice Portoghese Taina Taina Sarà ancora rimessa In favore del Cagliari Taina Verticale Per Gandini Stavolta C'è una deviazione Sì Gli arbitri Hanno visto La deviazione Che quindi Sarà calcio D'angolo In favore Della formazione Cagliaritana Con Federica Cocco Che va sul punto Di battuta 3 minuti E 42 Da giocare In questo Primo tempo All'indietro Si va da Marras Che prova Il let tiro Con conclusione Abbastanza Velleitaria Allora riparte Pigneiro Apertura Per Berkan C'era dall'altra parte L'arrivo Di Key Roche Pallone lungo E sfera Che termina Oltre la linea di fondo Gandini Apertura a destra Si va da Marras Gioco di gambe Su Carollo Poi Ferro Calcia addosso Alla stessa Carollo E quindi è rimessa In zona d'attacco Per il Cagliari C'è Tainag Arriva a rimorchio Si porta avanti Il pallone Con la suola Poi è costretta A perderlo Ancora Marras Conclusione Stavolta Senza pretese Del numero 8 Della squadra Di Diego Podda Ultimi 3 minuti e 9 secondi Di questo Primo tempo Ancora Taina Calcio d'angolo Capitano Cargiu Ha provato la rovesciata Pallone a lato Applausi comunque del pubblico del Palafiera Per un tentativo sicuramente apprezzabile Del numero 10 Che purtroppo per lei deve Farsi perdonare Della fortuita deviazione Che ha dato il 2 a 1 Alla Tienese Prima del 2 a 2 Di Battistoli Un minuto e 29 Da giocare Ancora Taina Prova ad andarsene su Carollo Invece si trascina il pallone Oltre la linea laterale Per quest'ultimo minuto e 25 Fuori Gandini Torna in campo Claudia Cuccu Autrice dei due gol Che avevano regalato il doppio vantaggio Al Cagliari Battistoli Ferro Ancora per Carollo Che deve girarsi Ha il problema di farlo Poi ci riesce Ma si trascina fuori il pallone E quindi Sarà rimessa in favore Del Cagliari Con Cocco e Taina Sul pallone Vargiù Poi Cocco In posizione di ultima Taina Ancora Cocco Apertura a destra Verso Vargiù Che cambia gioco Questa volta Non si intende con le compagne 55 secondi e due decimi Da giocare nel corso di questo primo tempo Il punteggio È quello di parità Ricordiamolo che al termine dei 40 minuti Qualora persistesse questa parità Non si andrebbe direttamente ai tiri di rigore Ma si giocherebbero due tempi supplementari Da 5 minuti ciascuno 44 secondi e 4 Serandrei chiede alle sue ragazze di posizionarsi nel modo migliore Per quello che potrebbe essere l'ultimo possesso di questo primo tempo Taina messo in movimento Cocco Anticipata da Ferro Ma è ancora il Cagliari Che prova a impostare Con Taina Scucchiaia Esce bene dai blocchi Ferro Poteva fare qualcosa di meglio In questo caso al numero 20 Che poi recupera palla E può far ripartire il break del Cagliari Altro passaggio Sbagliato Della giocatrice brasiliana Irraggiungibile il pallone per Vargi 26 secondi e 7 da giocare nel corso di questo primo tempo Carollo Burkan Verticale verso Carollo C'è il fallo commesso da Cucco Anzi è Cocco scusate Ma ogni tanto per noi è anche difficoltoso Distinguere due cognomi così simili Fallo è di Federica Cocco Mentre i due gol sono di Claudia Cucco Calcio di punizione per la Tienese A 19 secondi e un decimo dal termine del primo tempo Tra pochissimo andremo da Giuseppe Di Giovanni Con una protagonista all'intervallo Introduciamo l'intervista a bordo campo Per la finale di questa Coppa Italia Serie A femminile Battistoli Si va da Ferro Il destro è altissimo Non può creare il minimo problema Alla squadra di Podda 17 secondi e tre decimi da giocare nel corso di questo primo tempo Ci avviciniamo alla sirena di metà gara Taina Cambia gioco per Cucco Traversa clamorosa del Cagliari Aveva girato bene di testa il numero 21 della squadra sarda Salvata dai legni In questo caso Cogo C'è il fallo commesso da Carollo su Taina E' il quinto fallo per la Tienese E cartellino giallo per Carollo Dovrebbe essere se non sbaglio il secondo di questo primo tempo Dopo Quello sventolato All'indirizzo Di Battistoli Autrice del gol del 2 a 2 6 secondi e mezzo da giocare C'è ancora a terra Taina Che speriamo non abbia subito un colpo proprio Ma la gamba infortunata ieri durante la semifinale Sarebbe un ulteriore guaio per la squadra di Podda Che ieri dopo l'uscita di Taina Ha rischiato grossissimo di subire il pareggio Poi è riuscito il Cagliari A salvarsi Ad andare in finale Grazie al 2 a 1 Sul Martina Monopoli Adesso vediamo Se ci saranno conseguenze A breve termine Per la giocatrice Ancora a terra Vale a dire Franziele Dos Santos Taina Che si rialza Vediamo se riuscirà Quanto meno a camminare sulle sue gambe Deve uscire Per regolamento Negli ultimi 6 secondi e mezzo Vediamo se sarà in grado Di tornare in campo Nel corso di questo match Al rientro dallo spogliatoio È il quinto fallo commesso dalla Tienese Punizione che si incarica di battere Marongiu Ha rischiato di segnare la sua tripletta personale Claudia Cuccu 6 secondi e mezzo Pallone al centro Arriva con un attimo di ritardo Gandini in questo caso 5 secondi e 4 nel corso di questo primo tempo Ancora da giocare Taina affidata alle cure dei sanitari Gordone di Cagliari avanti 2 a 0 Cazzo la doppietta di Cucu Poi la rete è dall'1 a 2 Revitata da perro E infine palli di capitano Battistoni 2 a 2 2 a 2 all'intervallo Allora Chiara Ti dico la mia impressione Sull'1 a 0 mi siete sembrato un po' colpite E poi sul 2 a 0 una reazione fantastica Sì paradossalmente noi andiamo meglio Quando siamo sotto Dobbiamo sempre recuperare Perché è lo spirito Abbiamo avuto secondo me un po' Di agitazione Di inizio però Ci siamo adesso E qua adesso vince chi ha un po' più di gambe E un po' di testa Per portare a casa questa bellissima coppa La vedi un po' come una vendetta ieri sera Andrei ha detto Io voglio giocarci col Cagliari Ci abbiamo perso due partite Sì esatto Ci hanno ridato un'occasione Per rifarci ma Vinca il migliore Grazie mille a Chiara Battistoni Abbiamo sentito le sue impressioni a caldo In questo finale di primo tempo Io vi do un attimo di pausa Però restate con noi Perché fra poco Marco Calabresi ci racconterà il secondo tempo Grazie mille a Chiara E' tutto pronto per il secondo tempo Di Tienese Cagliari La finale della Coppa Italia di Serie A Femminile all'intervallo E' due a due Alla doppietta Di Claudia Cucu Ha risposto l'autogol di Gandini E poi La rete del due a due Realizzata da Chiara Battistoni Abbiamo sentito Le impressioni della giocatrice Della Tienese Al termine del primo tempo La Tienese che ci crede E dopo due sconfitte In due precedenti In campionato Spera di ottenere la prima vittoria Ma sarebbe quella più importante Anche perché La Tienese nonostante I due I due K.O. Negli scontri diretti E' comunque a contatto In classifica A soli tre punti dalla capolista Tienese che gestisce Il possesso del pallone Era partita bene Poi la doppietta di Cucu E poi la grande reazione Ancora una volta Della squadra di Serandrei C'era stata anche ieri Dopo il vantaggio lampo Di Politi Battistoli Prova ad andarsene Sulla parte La fascia destra Parte il tocco Che per poco Non diventa il 3 a 2 Per merito di Sandra Burkan Taina Guadagna calcio d'angolo Denia Kogo Guida il posizionamento Delle sue compagne Su questo Rimessa laterale Scusate Sembrava calcio d'angolo Ma la palla era uscita Sulla linea laterale Attenzione alla respinta Taina Può esultare La firma d'autore E' ancora quella Di Franziel Dos Santos Taina E qui Denia Kogo Però ha qualcosa Da farsi perdonare Respinta con i piedi Molto corta Troppo corta Dopo 48 secondi Il vantaggio del Cagliari Che torna avanti Con la sua giocatrice Più rappresentativa 3 a 2 Di Taina E qui c'è il fallo Commesso da Pignero Che reclama Di aver colpito Solo il pallone Gli arbitri Non sono dello stesso avviso Sarà calcio di punizione Quando se ne è andato Il primo minuto E questo è un Gol che vediamo Se avrà Contracolpo Psicologico Sulle giocatrici Nella Tienese Taina Va all'esecuzione Di questo calcio Di punizione E trova Un altro prodigio Un altro affresco Di Franziel Sieldo Santos Taina Che ha iniziato Tarantolata Questo secondo tempo Due gol In un minuto E un secondo E questo è un solco Che rischia di essere Profondissimo Per la finale Serie A femminile La chiamano Ragnatela All'incrocio Dei pali Taina L'ha tranciata Con un calcio Di punizione Potente E preciso 4 a 2 La Tienese Quasi non ci crede Subire due gol Nel giro Di 13 secondi Entrambi Segnati da Taina E' una mazzata Che metterebbe Al tappeto Anche Mike Tyson Vediamo Se la Tienese Riuscirà invece A rialzarsi ancora Birkan Che inizio Di secondo tempo Del Cagliari Pignero Prova il destro E la palla Che è andata In rete Errore di Mulas Abbiamo avuto Un attimo Di esitazione Perché la palla Ha colpito Un ferro Ma non era Quello del palo Bensì il palo Di sostegno Quando il pallone Aveva già Oltrepassato La linea E quindi In questo Turbinio Di emozioni Arriva il gol Del 4 a 3 Di Catarina Pignero 1 minuto E 32 secondi In meno di Un minuto Esattamente In 44 secondi 3 gol Speriamo Che i nostri utenti In diretta Streaming Non abbiano Tardato A rimettersi In poltrona Perché rischiano Di aver ritrovato Un scenario Completamente diverso Rispetto a quello Della fine Del primo tempo Ora a ferro Pallone per Burkan Diciamo che Non sono stati Irreprensibili Due portieri In questo inizio Di ripresa Prima la respinta Con i piedi Di Cogo Aveva di fatto Consegnato Su un vassoio D'argento Il gol Del 3 a 2 A Taina Poi la stessa Brasiliana Si è inventata Il gol Del 4 a 2 Poi Mulas Avrebbe potuto Fare qualcosa Di meglio In occasione Della conclusione Dalla lunghissima Distanza Di Catarina Pignero Che è finita In rete Per la rete Del 4 a 3 Ancora Taina Fermata Da Battistoli 2 minuti E 31 Sembra passata Mezz'ora Di questo secondo Tempo Invece ne abbiamo Viste veramente Di tutti i colori In soli 151 secondi Di testa Ci prova Cuccu Colpisce Ferro Che viene Quasi decapitata Da uno schiaffo Di Cogo Calcio d'angolo In favore Del Cagliari Ancora Marongiu Sul punto di battuta Occhio che c'è Taina dall'altra parte Si coordina Sarebbe stato Veramente troppo Vedere questo gol Di Taina Avremmo spento Il microfono Probabilmente Ce ne saremmo andati Se fosse andato in porta Anche questo Ha iniziato In maniera Nel momento più adatto Quando il Cagliari Poteva prendere Il sopravvento Ferro L'apertura Per Pignero In verticale Stavolta è troppo lungo Taina A cercare Marongiu Pallone troppo lungo Ancora Tienese In possesso Riesce in qualche modo Mulas A evitare Il calcio d'angolo 3 e 28 Giocati in questa ripresa Partita bellissima Al palafiera Taina Il tocco Verso Cocco Che prova a sfruttare Il rimpallo Sui piedi Di Birkan Diego Podda Si sgola Cagliari Che pensava Di aver impresso Un break decisivo Con i due gol In 13 secondi Di Taina E invece è arrivato Il gol del 4 a 3 Di Pignero Ancora Taina Che prova ad andarsene Il pallone messo al centro E Gandini Arriva Con un attimo Di ritardo Sul secondo palo Grande partita C'erano stati 18 gol Lo abbiamo ricordato Anche nel primo tempo 18 gol In due partite Di campionato Tra Tienese E Cagliari Questa gara Non sta facendo altro Che tenere inalterata La media Visto che ne sono Già segnati 7 E mancano ancora 15 minuti e 46 secondi Più eventuali Supplementari Taina 4 e 36 giocati Cagliari 4 Tienese 3 Cocco Ha perso il pallone Poi Chiara Battistoli Si è fatta anche male Al suo posto Torna Sul parquet Begnoni Pignero Eccola qui La numero 3 Che perde palla Taina 2 contro 1 Prova ad andarsene La brasiliana Esce Kogo La mette a sedere Prova un esterno Che forse era più un cross Che un tiro Ma la palla Sembrava lo stesso Diretta verso lo specchio Della porta Invece solo l'esterno Della rete K. Roche Cambio di lato Per Begnoni 2 contro 2 Arriva ancora Di gran carriera K. Roche Duello tra Numero 9 Lo vince La giocatrice Del Cagliari Che potrà usufruire Di una rimessa in gioco 14 e 46 Da giocare Gandini Cambio di lato Verso Marongiu Che poi Si permette anche Il lusso Di concedersi Un colpo di tacco Begnoni Tiro sporcato Da Bargiu E tra le braccia Di Mulas Marongiu Porta spasso Il pallone Il tocco è verticale Sbagliato Verso Gandini Che non ci ha creduto 5 e 41 giocati Nel corso di questo Secondo tempo Siamo 4 a 3 Invitiamo Tutti i nostri utenti A cliccare Mi piace Sulla Pagina Facebook Final 8 Futsal Che non vi sta facendo Perdere una partita Un minuto E un gol Di queste Nel corso di questo match Sono Battistoli E Carollo Per la Tienese Primo giallo Invece per il Cagliari All'indirizzo di Bargiu Calcio di punizione Che si incarica di battere Debora Keyrosh Arrivare il fischio Parte Keyrosh Col destro Buca la barriera E fa 4 a 4 Si è aperta Come le acque del Mar Rosso La barriera del Cagliari La palla è passata Non si sa come Non si sa dove Ma quello che conta È che la Tienese Per la seconda volta Ha rimesso in piedi Una partita Che se ne stava andando Verso l'isola E siamo 4 a 4 Debora Keyrosh Direi Al netto Al netto Della nostra enfasi Errore Evidente Di posizionamento Della barriera Non può mai passare Una palla del genere E invece è passata E Keyrosh Ha fatto 4 a 4 Begnoni Rilancio ancora Per Keyrosh Ora la partita L'inerzia della partita Rischia di essere Andata nuovamente Dalla parte Della squadra Di Serandrei Siamo a 26 gol In due partite e mezza Tra Tienese e Cagliari Che quando giocano contro Evidentemente Hanno voglia di dare Spettacolo E di divertirsi Ci stanno riuscendo Facendo divertire anche noi In questa finale Alle ore 20 e 30 La seconda semifinale Della Coppa Italia Di Serie A 2 Tra la Camedo Son E l'Ital Service Pesaro Fano È già in finale Limola Anche se Per dovere di cronaca Va detto Che c'è un ricorso Che pende Presentato Dall'Augusta Dall'Augusta Chiaramente Non possiamo Assolutamente Esprimerci A questo ci penserà Il giudice sportivo Già riunito Per analizzare Il reclamo Dei siciliani Sconfitti 5 a 1 Sul campo In maniera Più che netta Dall'Imola Taina Pallone Arpionato Da Marongiu Si torna All'indietro Da Cocco E allora Riparte La Tienese Con Pignero Che rischia Di perdere Palla Poi il lancio In verticale Tentato da Lucia Dall'Olmo Verso Battistoli Che non è neanche Partita per raggiungere La sfera Per quanto fosse lunga Pallone bloccato Da Mulas Cocco Pallone in verticale Per Marongiu Che deve desistere Lo controlla Catarina Pignero Palla tra le braccia Di Cogo Burkan Che è tornata In campo Tunnel Nei confronti Di Cocco Ancora Burkan L'apertura Per Battistoli Di punta E qui c'è La grande parata Di Mulas Aveva Imbustato Il pallone Tra le gambe Di Cocco Sandra Burkan Grande giocata Che aveva creato Superiorità numerica E poi È arrivato Il bel intervento Di Martina Mulas Pignero Di sinistro Pallone messo al centro Nulla di fatto Ancora Tienese Pignero Palla per Dall'Olmo Tocco in verticale Ancora Tienese Con la stessa Dall'Olmo L'indietro Per Pignero Cocco Sono passati 8 minuti e 10 Nel corso Di questo Secondo tempo Burkan Nuova possibilità Di transizione Per la Tienese Burkan Riesce a rinvenire Taina Che trasforma L'azione da difensiva In offensiva Bravissima Burkan A intervenire Ancora Taina Chiama palla Kogo E la fa sua E ha fatto subito Ripartire Sandra Burkan In verticale Per Battistoli Poi ancora La Croata Burkan Anzi è Pignero Che aveva provato Il tiro Rimessa Per la Tienese Serandrei Chiama a gran voce L'ingresso in campo Di Ferro Vediamo chi sarà A lasciarle Lo spazio Esce Dall'Olmo Con la lingua Di fuori E quindi È evidente Che ci sia Grande stanchione Ma grandissima voglia Di vincere questa Coppa Per queste ragazze È la terza gara In 48 ore Non sono assolutamente Abituate Ma la condizione fisica Pare ancora esserci La benzina c'è Per vincere questa Coppa Chiama a time out Diego Podda 4 a 4 9.03 Giocati nella ripresa Time out anche per noi Di questa finalità Di questa finalità 4 a 4 Il risultato Time out Chiamato da mister Diego Podda 10 minuti 57 secondi Di fuoco Per decidere Chi si alzionerà Il trofeo Di questa finalità Di questa finalità Giai Ma grandissima voglia Si torna a giocare ultimi 10 minuti e 56 di questo secondo tempo che potrebbe non essere l'ultimo visto che in caso di parità al minuto 40 sono previsti due tempi supplementari della durata di 5 effettivi ciascuno Marras in verticale per Cucu che aveva segnato i primi due gol partita che ha vissuto di strappi 2 a 0 Cagliari, 2 a 2, 4 a 2 Cagliari ora 4 a 4 Carollo prova ad accentrarsi, occhio al break del Cagliari con Cocco che prova a portarsi avanti il palone con la suola ribaltamento di fronte, 3 contro 1, Battistoli per Berkane troppo lungo il passaggio per la Croata che deve desistere Begnoni rischia di sradicare un seggio dalla panchina del Palafriera Stiamo per arrivare alla metà di questo appassionante secondo tempo 4 a 4 ci sono ben 455 utenti collegati con la diretta streaming della divisione Calcio a 5 grande successo anche per questo servizio che vi stiamo fornendo gratuitamente e in maniera integrale vi ringraziamo per l'attenzione vi invitiamo a rimanere collegati anche questa sera quando alle 20.30 si sfideranno la Camedo Son altra formazione veneta come la Tienese e l'Ital Service Pesaro Fano per il penultimo attio di questa Final Eight l'ultimo, il più atteso per la Serie A2 in programma domani alle 18 anche questo in diretta streaming su questi schermi Carollo sbaglia il tocco verso Battistoli abbiamo superato la metà di questo secondo tempo 10.14 se ne sono andati 4 a 4 e 1 a 1 il conto dei falli perfetta parità Taina si va da Marras ancora Taina che con due gol sembrava aver messo il Cagliari in posizione di vantaggio poi Cucu la deviazione credo di Ferro sarà calcio d'angolo in favore del Cagliari due gol di Taina e due gol di Cucu per il Cagliari ancora Taina si porta la palla sul sinistro serie di deviazioni poi Cocco cerca il destro da lontano molto pretenzioso in questo caso della giocatrice in maglia numero 22 ancora Taina che va a prendersi sempre il pallone poi stavolta sbaglia per poco Keyros non intercetta e riparte invece ancora Cagliari con Cucu 1 contro 1 con Begnoni deve fare a sportellate sono altissime le due giocatrici anzi questa era Ferro altrettanto robusta e potente fisicamente la numero 5 Begnoni è in panchina per il momento pallone fuori la rimessa di Cogo verso Keyros all'indietro verso Ferro si va da Berkan che ha visto il taglio buono di Mota Keyros autore del gol del 4 a 4 la numero 9 portoghese con evidenti complicità della barriera piazzata da Mulas che non era stata irreprensibile neanche nell'occasione del 4 a 3 di Pigneiro Taina prova a portarsi a spasso Berkan non c'è fallo sulla brasiliana fuori Berkan al suo posto Begnoni Ferro cambia di cambio di lato verso Carollo in verticale verso Keyros tocca per ultima Federica Cocco meno 8 e 29 grande partita che adesso si è leggermente abbassata di ritmo ma resta appassionante qui al palafiera di Pesaro teatro della Final 8 di Serie A femminile anche nel 2012 vinse il kickoff in finale sul Preci fu la prima finale di Serie A femminile poi da quest'anno la categoria è stata splittata tra Serie A femminile Elite e Serie A femminile quest'ultima quindi sta per vedersi concludere la prima edizione della Final 8 e una tra Tienese Cagliari per la prima volta iscriverà il nome in questo albo d'oro Begnoni fa scorrere bene il pallone poi l'assist è verso Ferro che lo mette al centro arriva senza più benzina la numero 5 e pallone che viene messo direttamente sul fondo riparte il Cagliari Cocco Marongiu ancora per Cocco che prova a girarsi forse anche un po' involontariamente su Ferro che gli sporca il passaggio 7.48 c'è Marongiu lo scarico per Taina che chiede di aspettare poi il tocco al centro per Cucu che in caduta rischia di segnare il gol del 5 a 4 un cambio per parte fuori Cucu dentro Gandini da una parte fuori Ferro dentro dall'olmo dall'altra proprio dall'olmo in possesso di palla apertura per Key Roche manca un'ora e 40 alla semifinale di Serie A2 ma non possiamo perderci lo spettacolo di Cagliari di Cagliari e Tienese Bargiu ancora Taina in verticale si va da Gandini che prova a girarsi fa perno sul corpo di Lucia dall'olmo c'è il fallo commesso dalla Tienese è il secondo fischiato alla formazione di Kim Serandrei si incarica di batterlo Taina che ha già realizzato il gol del 4 a 2 con un calcio di punizione sicuramente la posizione era nettamente più agevole più centrale vediamo cosa si inventa Taina ci riprova e questa volta Kogo è brava non poteva far altro che respingere con i piedi visto che il pallone se l'è visto sbucare all'ultimo Taina pallone per Marongiu che vince un rimparlo ancora Marongiu è brava Kogo a respingere con i piedi 7 minuti e 8 secondi da giocare in questo secondo tempo ancora Marongiu si va da Varju serie di rimpalli che questa volta premiano la Tienese c'è Pignero sul punto di battuto Gandini e Taina restano alta in pressione costringono all'errore Pignero attenzione a Taina che può andare in solitario pallone messo al centro di sinistro di tacco respinge Pignero poi Begnoni che calcia addosso al volto di Taina vince un rimpallo ancora Begnoni che prova ad andarsene poi viene ostacolata è un caterpillar la numero 3 della Tienese spazza via qualsiasi cosa si trova davanti 6 e 51 sul cronometro di questo secondo tempo ne restano prima di eventuale epilogo ai supplementari Pignero pallone al centro Mulas non rischia la presa occhio al break del Cagliari con Taina serie di finte su Ferro anzi su Dall'Olmo che non ci casca poi tunnel su Begnoni non c'è fallo 6 e 35 riparte la Tienese con Battistolli che esplode il destro la parata di Mulas palla che rimane lì e il Cagliari alleggerisce la pressione che i rocce ricordiamo che al termine del match prima della premiazione andremo con Peppe Di Giovanni a bordo campo a carpire le emozioni della squadra che vincerà ma anche la delusione della sconfitta e poi ci godremo il momento in cui una tra Chiara Battistolli e Claudia Cuccu alzerà la Coppa Italia le due squadre l'hanno osservata l'hanno sfiorata durante l'ingresso in campo soltanto per una delle due ci sarà il privilegio di portarsela a casa se andrà a Vicenza o in Sardegna lo sapremo tra 6 minuti e 10 secondi effettivi al netto di eventuali supplementari Pigneiro tocco scodellato perché i rocce lo stop di petto e qui è risolutiva l'uscita di Mulas la palla rimane lì ancora Mulas se la ritrova tra le braccia molto brava nel piazzamento in questo caso il portiere della squadra di Podda si riparte con Taina gioco di suola ancora la brasiliana che punta Pigneiro uno dei duelli più interessanti di questa finale Burkhan la deviazione di Varju 5 minuti e 40 ci sono forse Crampi per Deborah Keirosh arriva dall'olmo a tirare la gamba destra la fatica si fa sentire è inevitabile ripetiamo per queste squadre la terza partita in meno di 48 ore in una stagione già intensissima con Cagliari e Tienese che già da domenica prossima torneranno ad essere rivali sportivamente parlando nella lotta al primo posto del girone a 43 punti per la formazione di Podda 40 per la Tienese le due squadre hanno il miglior attacco dell'intera categoria 97 gol fatti il Cagliari 76 la Tienese secondo posto che è condiviso con la Futsal P5 squadra di Palermo che milita nel girone C della serie A femminile ne hanno eliminata una del girone C la Tienese ovvero la Royal Team la Mezzia nei quarti di finale di venerdì poi ieri tra le vittime della squadra di Kim Serandrei c'è anche la Uoma Napoli che invece ha asfaltato le avversari nel gruppo B 489 utenti chiaramente il passaparola sui social sta facendo il giusto effetto arriveremo forse a 500 attenzione qui alla pallonata che arriva in area stampa rischia di saltare qualche computer sarebbero stati guai veri invece ce la caviamo con un po' di fortuna e possiamo continuare tutti a narrare a scrivere e a riprendere di questa finale senza i cristalli rotti attenzione al passaggio di Keirosh e Mulas che dopo un paio di indecisioni di indecisioni che sono costate care al Cagliari si sta rifacendo con gli interessi da Mulas si torna da Franziel dos Santos Taina 4.58 entriamo nell'ultimo quarto di questo secondo tempo Gandini nessuno tocca il pallone la sfera che finisce tra le braccia di Denia Kogo 4.52 al termine ripeteremo molto spesso il cronometro per farvi capire di quanto poco tempo mancherà al termine di questa finale Berkan pallone sporcato da Taina che dice alla sua compagna Carolina Vargiu di alzare la pressione rilancio di Kogo arriva il colpo di testa di Cocco scontro che rischiava di essere durissimo e invece la palla finisce semplicemente a lato 4.33 prima della sirena che sancirà la fine dei tempi regolamentari e tra poco sapremo se questa gara avrà un seguito o se la coppa verrà assegnata dopo i 40 minuti canonici serie di rimpalli che favoriscono Pigneiro che punta Taina ancora Pigneiro prova ad andarsene Taina costringe a farla a decentrare e di fatto neutralizza l'azione della portoghese ancora Pigneiro gli arbitri fermano il gioco e fischiano per consentire i soccorsi credo a Carolina Vargiu con i crampi alla gamba destra lascia il posto a Michela Marongiu 4.17 Pigneiro sul punto di battuta palla scodellata dall'altra parte c'era Ferro che ha avuto una buona chance invece ha preferito il piatto al volo pallone che non centra neanche lo specchio della porta 4.15 ancora in questo secondo tempo rimessa lunghissima di Mulas poi c'è Key Roche che tiene la sfera in campo poi il cambio di lato verso Burkhan che riesce a vincere l'uno contro uno il destro senza alcuna pretesa e senza alcun affanno la parata di Mulas ultimi 240 secondi Gandini perde il pallone ancora una volta rischia un po' in questo caso il Cagliari c'è Pigneiro ed è bravissima Taina giocatrice box to box la brasiliana da un'area all'altra riesce a coprire con facilità disarmante rimessa Tienese con Pigneiro si bada Elena Ferro qui si annebbia un po' la concentrazione della portoghese che sbaglia la rimessa pallone che finisce nuovamente tra i piedi di Taina palla in verticale controlla bene stavolta Ferro adesso 3 contro 3 Pigneiro dall'altra parte c'è Berkhan si sceglie il tocco corto per Key Roche pallone in mezzo Mulas e Cocco non si intendono sarà calcio d'angolo in favore della formazione di Kim Serandrei cambio per Pigneiro Serandrei inserisce Maria Carollo ricordiamo suo il rigore decisivo ieri in semifinale contro la Uoma Napoli dopo gli errori di Giannoccoli e di D'Angelo Ferro Carollo si completa una buona circolazione di palla con Key Roche all'indietro da Ferro si muove bene la Tienese cambia lato Key Roche si va invece da Carollo 1-2 con Berkhan allontana bene ma non benissimo in questo caso la difesa del Cagliari 3 minuti e 18 da giocare Carollo all'indietro si va da Ferro ancora Carollo si allunga il pallone prova il duello in velocità con Marongiu che regala un calcio d'angolo fuori Key Roche torna in campo Chiara Battistoli suo il gol del 2-2 in chiusura di primo tempo dall'angolo c'è Carollo chiama lo schema che è uno scarico fuori per Ferro ancora Carollo palla al centro e c'è il gol del vantaggio ancora Battistoli entrata in campo da pochi secondi proprio per mettere la firma sul gol del 5-4 impazziscono i dirigenti della Tienese dietro la porta di Kogo e questo è un gol che potrebbe valere la storia Chiara Battistoli Peppe Di Giovanni l'aveva fermata all'intervallo probabilmente dovrà andare a disturbarla anche dopo il fischio finale qualora il punteggio rimanesse questo 5-4 cambio che più azzeccato non si può quello di Kim Serandrei abbracciato dalla sua capitana entrata in campo pochissimi secondi prima del gol del 5-4 non credono ai loro occhi in panchina qui sotto la nostra postazione saranno 2 minuti e 57 secondi lunghissimi per la Tienese vediamo se Podda imposterà la tattica del portiere di movimento Maron Giù per Taina attaccata alle spalle da Battistoli che prova ad andarsene adesso è completamente in transagonistica il capitano della Tienese chiede fallo Taina comunque Tienese che è lontana dal bonus tre falli commessi dalla squadra di Serandrei solo uno dalla squadra di Diego Podda che però al momento è sotto di un gol il primo vantaggio della Tienese di questo match rischia di essere decisivo Battistoli la palla per Berkan la rimessa lunga di Mulas Cogola Cogola Carollo il passaggio è impreciso verso Battistoli due minuti e venticinque dicevamo Cagliari per due volte in vantaggio sia sul 2 a 0 che sul 4 a 2 due grandi rimonte della Tienese che adesso ha trovato il primo vantaggio con Chiara Battistoli sinistro da bomber di razza per il numero 6 della squadra di Serandrei che adesso attacca in maniera feroce il possesso palla del Cagliari commette fallo proprio Battistoli dovrebbe essere il quarto fallo pallone restituito pallone restituito dalla Cagliari alla Tienese tra poco nomineremo anche la miglior giocatrice di questa Final 8 che ricordiamolo non sarà riferito soltanto alla finale ma all'intera competizione ma sicuramente possiamo dirlo che sarà una delle giocatrici che ora è in campo crampi anche per Pignero sono esauste le giocatrici della Tienese c'è il cartellino giallo per Gandini al minuto 17.54 del secondo tempo ci fermiamo per qualche secondo e poi torneremo per raccontarvi questi ultimi due minuti e 0.6 appassionanti si riparte con Pignero pallone già tra le braccia di Martina Mulas ultimi 120 secondi di gioco colpo di testa di Battistoli prova ad andarsene Taina ancora su Pignero che si mette davanti all'avversaria vediamo se il Cagliari riuscirà a sopperire un po' di frustrazione in questi ultimi due minuti a trovare le ultime energie per dare l'assalto al pareggio Kim Serandreje in silenzio davanti alla sua panchina adesso il Brecca ancora una volta di Chiara Battistoli che prova ad andarsene c'è Gandini c'è anche Cuccu in campo le due autrici di una doppietta in questa finale sia Claudia Cuccu che Franziele dos Santos Taina eccola qui Cuccu in possesso palla 90 secondi al termine la Tienese trattiene il fiato lo tratteniamo anche noi è stata una partita bellissima Begnoni all'indietro per Ferro vediamo se la Tienese riesce a congelare per qualche secondo che sarebbe prezioso il possesso palla si va da Battistoli uno contro uno con Taina il rimorchio ancora per Pigneiro che punta Cocco ancora Pigneiro preferisce mantenere la sfera poi rischia di perderla pallone che esce sarà comunque rimessa per la Tienese un minuto e 0-2 alla fine del match siamo 5-4 in favore della squadra di un Kim Serandrei che potrebbe esplodere la sua gioia proprio come ha fatto ieri durante i festeggiamenti dopo il match contro la Wally Cuomo a Napoli Cocco non riesce a raggiungere il pallone 53 secondi e mezzo da giocare a terra c'è Federica Cocco la Tienese può amministrare il pallone Pigneiro lo affidano alla giocatrice proprio come si fa con Steph Curry dei Golden State Warriors le mani più calde sono quelle che amministrano i palloni più bollenti attenzione però perché il Cagliari insiste il destro di Cocco pallone fuori non c'è deviazione anche parole poco traducibili qui sotto la panchina dove ci sono i dirigenti di una Tienese che è vicinissima al traguardo Pigneiro prova ad andarsene su Cocco c'è tempo però per il Cagliari Podda e Serandrei danno le ultimissime direttive alle loro squadre Cucu seguiamoli con il fiato sospeso questi ultimi 30 secondi controlla palla Cogo 26 secondi Pigneiro rischia di perdere la palla sulla pressione molto alta di Cocco poi allontana dalle parti di Cucu che prova a mettersi in proprio poi affida la sfera a Taina l'intervento in scivolata di Elena Ferro 14 secondi 4 decimi Taina pallone messo in mezzo Pigneiro lo svirgola sarebbe stata forse il punto esclamativo sulla vittoria invece lo svirgola la portoghese regalando ancora un corner al Cagliari Cucu pallone messo in mezzo verso Cocco 8 secondi la Tienese a un passo dalla vittoria rimessa in favore della squadra di Serandrei che adesso dirà alle sue giocatrici di mettere il pallone più lontano possibile dalla propria area di rigore 6 secondi e un decimo Pigneiro palla lunga poteva essere gestita meglio la tiene Keyros manca un secondo c'è il fallo commesso da Cocco manca un secondo e due decimi la Tienese deve tenere ancora per un secondo e due l'urlo nelle proprie gole Pigneiro si è seduto Diego Podda potrebbe essere un segnale di resa Pigneiro sul punto di battuta la partita potrebbe essere finita qui Pigneiro la palla per Keyros e suona la sirena vince la Tienese impazzisce Kim Serandrei impazzisce tutta la Tienese è invasione di campo di tutti i dirigenti arrivati da Vicenza per vedere la propria squadra alzare la Coppa Italia in Serie A femminile 5 a 4 per la formazione di Kim Serandrei una gioia incontenibile a cui fa da contraltare la disperazione del Cagliari che era andato per due volte in vantaggio di due reti 2 a 0 e 4 a 2 e invece con una grandissima rimonta la Tienese si porta a casa il trofeo vince 5 a 4 il gol decisivo lo sigla Chiara Battistoli Serandrei in finale aspettava il Cagliari per vendicarsi delle due sconfitte in regular season e se è vero che la vendetta è un piatto che va servito freddo oggi la Tienese di Serandrei l'ha servita questa vendetta sportiva complimenti alla Tienese complimenti al Cagliari 5 a 4 la Coppa va in provincia di Vicenza e adesso vedete la Coppa Italia grandi abbracci in campo tra le due squadre sicuramente è stata una finale correttissima e bellissima e bellissima 5 a 4 in favore della Tienese e adesso andremo tra qualche secondo con la premiazione non prima di avere Peppe Di Giovanni con qualche protagonista di questa finale e adesso vediamo da chi andrà il nostro Peppe Di Giovanni andrà a prendere qualche protagonista di questa grandissima finale degna di questo nome e non è un caso che Cagliari e Tienese si stiano giocando la vittoria nel campionato di Serie A femminile girone A andiamo da Peppe Di Giovanni che è già pronto con Catarina Pignano e gloria la Tienese allora Caterina avete eliminato la Roma a Napoli e già questa è un'impresa questa è un'impresa più grande non avete mai battuto questa squadra ma tu soprattutto come hai giocato questa Coppa Italia hai trascinato la squadra dall'inizio alla fine allora a Tienese si impara che le partite si vengono a soffrire quindi ci crediamo fino alla fine su due gol di scarto ci crediamo sempre anche qui a Napoli è sempre a perdere e siamo riusciti sempre a cambiare la partita quindi questo è quello che si crede dentro la squadra posso chiederti cosa hai pensato quando Tain ha fatto il gol del 3 a 2 e del 4 a 2 all'inizio del secondo tempo ho guardato di tempo e a calcio a 5 è un minuto basta per cambiare tutto per questo non ho mai mulato e ho creduto fino alla fine e sapeva che questa Coppa era della Tienese perché abbiamo meritato questa Coppa e abbiamo meritato di vincere le partite non abbiamo fatto quindi questa è rivincita sei la migliore giocatrice della competizione quanta soddisfazione per questo premio la soddisfazione è solo vincere la Coppa con le mie compagnie più niente grazie a Caterina Pignero che viene travolta da Keyros noi ci sentiamo fra qualche istante cercheremo di portare in postazione Kim Serandrei ma anche Diego Foto dei trofei grazie alla supporta delle nostre hostess che accogliamo con un applauso in mezzo al campo andiamo a consegnare i trofei partendo ovviamente dal ringraziamento agli arbitri della finalissima è il momento della premiazione ma vorrei sottolineare il momento bellissimo con i tifosi del Cagliari che hanno chiamato a gran voce la squadra di Diego Podda sotto il proprio settore applausi a scena aperta tanti sorrisi anche per un Cagliari che ha giocato una grande partita ma ha pagato la reazione davvero di una squadra granitica come è la tienese di Kim Serandrei che davvero non ce la fa più esausto l'allenatore della formazione vicentina e quindi adesso si procede con la premiazione partendo dai direttori di gara il signor Riccardo Davidi Bologna il secondo arbitro Denis Codra di Trento e Jurget Rapidi Prato buona la loro direzione e andiamo avanti dopo un pomeriggio intimenticabile per la tienese che continua a festeggiare il Cagliari sicuramente aveva pensato di aver vinto questa coppa dopo il 4 a 2 magari non dopo il 2 a 0 considerando che erano passati soltanto pochissimi minuti applausi meritatissimi da parte delle giocatrici della tienese a quelle del Cagliari che adesso vanno a prendersi le medaglie d'argento dal consigliere della divisione calcio a 5 Fabrizio Righetto e dal delegato sempre della divisione nazionale per il calcio a 5 femminile Ugo Marini medaglie d'argento per il futsal femminile Cagliari e dunque Diego Podda perde ancora una finale sicuramente sfortunato il tecnico che nel 2013 fu costretto a cedere al Napoli futsal Santa Maria nella finalissima della Coppa Italia di Serie A2 di Martina Franca un Cagliari che l'anno prima con Cesar Nunez in panchina perse anche la finale di Serie A2 maschile contro la Cogianco Genzano c'è anche qualche lacrima di tristezza e di delusione per le giocatrici del futsal femminile Cagliari che avranno modo di rifarsi in campionato arrivano tutti i tecnici che vede il Cagliari avanti di tre punti nella classifica del girone A di Serie A femminile la festa della Tienese pronta iniziale intanto grandi applausi correttissimi verso il futsal femminile Cagliari che se l'è giocata alla grande per due volte era andato in vantaggio per 2 a 0 con la doppietta di Cucu per 4 a 2 con la doppietta di Taina poi è arrivata la reazione da grandissima squadra grandissima squadra della Tienese che aveva raggiunto il 2 a 2 nel primo tempo con l'autogol di Gandini e il gol di Battistoni aveva pareggiato fino al 4 a 4 con Pignero e Deborah Keyrosh e a 3 minuti e 6 secondi dalla fine di questo match è arrivato il gol di Chiara Battistoni che era entrata pochissimi secondi prima giusto in tempo per mettere la firma indenebile storica sul successo della Tienese ancora una volta abbracci tra le squadre davvero momenti di grandissimo futsal grandissimo futsal e grandissimo fair play perché alle lacrime fanno anche spazio qualche sorriso e adesso è il momento numero 10 della premiazione della miglior giocatrice di questa Final 8 vince Catarina Pignero siamo stati molto molto dubbiosi anche perché diverse ragazze avrebbero meritato questo trofeo lo vince invece Catarina Pignero con consigliere della divisione calcio al 5 Andrea Farabini premia la portoghese della Tienese e adesso toccherà la medaglia d'oro di questa Coppa Italia di serie A femminile vince Catarina Pignero e adesso è il momento che viviamo con l'audio ambiente per qualche secondo e poi vedremo Chiara Battistoli che alzerà la Coppa Italia Passo della cerimonia di premiazione il premio alla squadra campione premiano Antonio Dario vicepresidente della divisione calcio 5 e Paolo Cellini presidente del comitato regionale Marche ovviamente stiamo parlando del premio alla squadra prima classificata l'applauso per la Tienese e per festeggiare questa premiazione parte urlando contro il cielo di Liga Bue tra pochi istanti le giocatrici della Tienese urleranno e come contro il cielo saranno urla di vittoria perché la Tienese ha vinto la Coppa Italia di serie A femminile momenti di grande emozione qui al palafiera di Pesano si vede qualche lacrima e quindi sono privi di forti quelli che stanno percorrendo la schiena delle giocatrici in maglia verde applausi scroscianti da tutto il palafiera ancora un po' di musica in collegamento qui dal palafiera il vicepresidente della divisione calcio a 5 Antonio Dario consegna le medaglie d'oro a tutto lo staff della Tienese compreso il tecnico Kim Serandrei che si inchina davanti alle sue giocatrici un allenatore che sembra dall'aspetto molto serioso ma che in realtà è veramente una persona simpatica e tra poco sarà ospite ai nostri microfoni con Peppe Di Giovanni e adesso è arrivato il momento più importante il momento più atteso presidente comitato regionale Marche Paolo Cellini e il vicepresidente della divisione calcio a 5 Antonio Dario pronti a consegnare la coppa nelle mani di Chiara Battistoli parte We Are The Champions partono i Queen sono loro le regine della Coppa Italia di Serie A femminile edizione 2016 eccola la squadra campione Final 8 che si dice dei colori momenti bellissimi bellissimi anche da raccontarvi andiamo dagli sconfitti con grande onore Peppe Di Giovanni con Diego Pol e possono urlare la squadra e gole adesso siamo nelle campionesse complimenti la tenenza mister quello che posso dire è che è stata a mio avviso una finale bellissima l'avete giocata a viso aperto forse sul 4 a 2 gestirla meglio questa gara è vero la dovevamo gestire meglio anche perché abbiamo preso gol perché abbiamo quasi smesso di giocare come se il 4 a 2 ci avesse consegnato la partita invece mancava ancora tutto il secondo tempo le partite sono così complimenti agli avversari che hanno giocato veramente bene credendoci sempre e forse hanno avuto qualcosa più di noi soprattutto nella parte della parte finale però devo solo ringraziare le mie ragazze perché credo che veramente abbiamo fatto una bellissima manifestazione siamo arrivate vicino a vincere la Coppa ma la nostra Coppa la alzeremo tra qualche settimana in campionato grazie mille grazie grazie la tienese adesso Peppe Di Giovanni andrà a recuperare in fretta e furia anche mister Kim Serandrei per portarlo ai nostri microfoni eccolo qui il tecnico vincitore grandissimi applausi per Kim Serandrei è arrivato un trofeo voluto e comunque meritato perché comunque è arrivato il 5 a 4 e dopo due vittorie ai tiri di rigore è arrivato questo successo nei tempi regolamentari la Coppa è della tienese di Kim Serandrei e andiamo a sentirlo con Peppe Di Giovanni posso dire che siete un'ammazza grandi dato che avete eliminato la Roma a Napoli adesso avete battuto avete sfatato questo tabù devo dire questa volta devo un attimino contraddire nel senso che siamo una grande e l'abbiamo dimostrato mister lei ieri sera ha detto io voglio affrontare il Cagliari perché voglio vendicare le due sconfitte qual è stata la differenza fra questa partita chiaramente oltre alla tensione al fatto che era una finale rispetto alle altre due di campionato è stata la voglia di vincere e la maturità dimostrata dalle mie giocatrici che una volta subito durante il campionato hanno saputo rinascere e centrare l'obiettivo ha qualche ringraziamento particolare da fare magari una sua giocatrice in particolare oppure qualcuno da ringraziare per questa vittoria importantissima devo ringraziare tutte le giocatrici in primis anche quelle che magari oggi non si sono viste in campo ma che comunque erano presenti e poi tutta la società che ha messo a disposizione questo roster di giocatrici davvero importante mister rifaccio l'ultima questa vittoria nella Coppa Italia siete in piena corsa per qualificarvi per i playoff scudetto e anche un messaggio all'isolotto Firenze e le altre grandi che questa non è una Coppa Italia di serie A femminile ma tra virgolette di serie B in realtà voi siete a quel livello l'anno scorso la Tienese faceva la A insieme a tutte quelle tra virgolette grandi non abbiamo cambiato nessuna anzi abbiamo giunto una la ragazza croata Sandra Burkan e quindi abbiamo aggiunto un qualcosa rispetto al livello dell'anno scorso grazie mille a mister Kim Serandrei tantissimi complimenti io vi ringrazio per l'attenzione ma vi invito a rimanere collegati con la nostra diretta streaming perché fra qualche minuto inizierà la seconda semifinale quella fra Kame Dosson e Ital Service Pesaro Fano ne abbiamo viste 12 di partite ma ne mancano due restate con noi a a a a a a a